Signore e signori, siamo tornati su Outlast, era da un anno che l'aeroporto, veramente, era da un anno. Allora, questo è praticamente dove abbiamo già fatto, solamente sostenendo perché oramai già lo so dove si va, questo è stato l'altro anno. Devo, appunto, rifare questo pezzo qua perché bisogna rifarlo, così è, pazienza, bisogna rifarlo e niente, perché appunto c'è tanti salvataggi perché, ecco, io a quell'estate, no, ho giocato appunto a Outlast. Sono mio amico e quindi abbiamo fatto anche tantissimo di gameplay, quindi sono fuorilmente incredibili e niente, ecco, appunto, ci ricordiamo o meno, ci facciamo una riflessione, poi ci siamo saltati qua e tan 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 tan, le rispondate bene. Aiuto, aiuto, mamma mia. Ma che sacco sono? Minchia. Minchia, minchia. Minchia. Minchia, minchia. Io sono già in testa, vada, signori. E poi siamo andati qua, signori, ve li ricordate, ci ricordiamo benissimo. Poi si fa così. Si, si aspetta un po', va. Qua si chiude, va, vai, vai, vai. Poi si va qua, signori. E qua, uno, due, tre, vai. E poi si va qua. E poi tan tan tan. E scoperto qua tutto. C'è un'altra cosa. Ah. Minchia. Minchia. No. Si che mi possa non sconder via. Poi siamo andati qua. Pam pam pam. Si va qua, facilissimo. Questa non è che è un po'. C'è un po' di tensione qua. Si va qua. Si chiude comunque la porta. E poi si va nell'elevatore. E poi signori, siamo rimasti qua. E hai fatto la scelta giusta. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hmm? I have a little confab, blah, blah, blah. Grandier than you look. A little car you wouldn't kill you. Oh, here we go, aren't some legs inside the car at all times. Minchia. Ehm. Adesso si diverte, signori. Si diverte dove ci siamo fermati l'altro anno. No. Nonno, proprio nonno. Minchia. I love the mountain hair up here at night. You wanna head out? Take a stroll? Go ahead, I'll eat here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Those are the grindstone. I like that. Okay, then. Right this way. e poi si va qua eh si è brutta è brutta signori ci aspetta brutta roba adesso qui c'è un nuovo microfono offerto gentilmente da Thrust ma kill me shh shh rippin' ha toned any use anyway could be told I was just tired of looking at my own stance here we are then a fiero 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 Perfettamente capito, sono qui per te, ti darò una intenzione molto speciale. Minchia! Cazzo! Minchia, 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 minchia! Mamma mia! Grande, grande! Minchia! L'ho seminato di brutto, avevo detto aspetta aspetta, e guarda, aspettava, ha detto guarda, ammazza, si può scappare, l'ha fatto bene, l'ha fatto bene. Minchia! Allora, non è un cazzo, allora, eh, si prosegue da qua, vai! Minchia! Minchia! Minchia, minchia, naga! Minchia! 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 Minchia, signore, minchia, zappo! No! Minchia! Ah, fai, 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 fai Fai, 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 fai Fai, 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 f Questo ciò è bello Minchia Minchia Oh signora Dio No mi ha visto Minchia Mamma mia Mamma mia signori Via 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 Minchia non riesco più alla porta Ok ok dai No Minchia mi ha fregato Minchia mi ha chiuso Pezzo di merda E andiamo signori Mamma mia che fatica Tutto qua Ce l'ha chiale Mamma mia E si va A salvarci il culo Oddio Oddio Zucca 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 Eh Grandissimo eh Eh Questa è la fine Giusta La fine è giustissima Eh adesso dobbiamo Levarci da qua Ehm 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 E vabbè Qua siamo di nuovo qua Mmm no 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 Siamo un piano qui sotto Non possiamo andare Ehm Ehm E vabbè Non c'è una pillola Non c'è una pillola Non c'è una pillola Ma non c'è Eh E qua dovrebbe esserci dai Questi sono i trucchi del mestiere Dai Quando si va su Il premio Sarà No E vabbè E vabbè Non c'è Non c'è Non c'è Si va su Non c'è E vabbè E vabbè E allora niente Siamo giustissaline Mamma mia E qua Guarda Scopetta Che c'è C'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Ehm Qua non c'è niente Sempre uguale Vicino al pc C'è il telefono Staccato Con Teamwork Teamplayer Hours Patrick Pecino Da una pillola Dai Su una Non è che due Anche se una ancora c'è Ma A me non è più niente Dai basta Mi sono rotto Mi sono rotto No Non c'è Una pillola Beh Qua però dai Guarda quanti computer Dai signori Dai Guarda quanti pc Proprio Guarda Schermi Wow Mamma mia Ma che lavoro Fantastico è qua C'è un salottaggio Vabbè E questa è Mamma mia che della scena Ma C'è tutto calcolato Poi è spaccato No Altrimenti che cazzo facevi Oddio Che cazzo è Padre Martin Mamma mia Grande padre Mamma mia Lui è il mitico Il mitico Ne assomiglamente tantissimo Una persona Non lo posso neanche dire Perché magari Magari Mi dicevano Denunciano Per Però Certe persone che mi conoscono Già sanno di chi parlano Guarda No è uguale È uguale Ma guardalo Guarda quanto è fiero Proprio Ha Con la Con la traccia lì in mano Minchia Non c'è una piglia Eccola Cerca padre Martin L'estero Minchia Padre Martin La La Leggenda di questo gioco Padre Martin E Niente Si va in buio E Guarda proprio buio Oh minchia no Buio 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 Oh Fire Thames Wilter 1966 Mamma mia Ma è Oh Minchia Sempre non c'è luce Eccola Eccola E' ora Poliziotto morto C'è tutti i poliziotti in modo In questo gioco A quanto pare C'è tutti morti Guarda Ecco basta Il mio tiro Non è la mente Tutti i poliziotti Nessun Non riesce a sopravvivere Lì Proprio un mistero E' una nota, ma non che cazzo me ne fai se cazzo di una nota. Vedi? Ehm... La prego di accettare l'eliminazione dei miei colleghi del collaboratore N5. 531.920, David Anacurna. E di ricoverarlo come paziente di morte. Ma c'era di... Che cazzo me ne frega adesso. Queste cose qui... Ma sono tutte cose abbastanza inutili. Lo specchio... Vedi? Vedi? Perché? Allora... No, il vicino non c'è qua. Eh... Però perché cazzo non si vede? Ne volevo vedere, no? Non si sa. Andiamo avanti... Una musica abbastanza... Eh... Ancora buio... No no... Arriva luce... Fumo... Allora... Quando c'è un caso... Ottimo... Quando c'è... Qua è tutto chiuso... Ottimo... E quella sedia d'hotelle... Mamma mia... Che roba... Sì... Mamma mia... Una pila... Mamma mia... Vedi? Vedi? Che conviene... A fare un sacrificio in più... A volte... È una pila... È come... Allora... Si va qua... Si va qua... Si va qua... Mmm... Cazzo è successo qua? Cazzo è successo? Dai... Lascomi si diventi! Di... Lui... Alla... Murkov... Took so much... From us... Used us... Turned us... Into these... Things... Because... Nobody... Cares... About... Forgotten lunatics... So... Let it burn... Burn... The whole... God damned... E' un'idea E' un... 2 o 2 film, e' un'idea e' un'idea Devo dire... Per tenere le fiamme Allora Tantissimo... si da senti parlare Che la Murkoff Mi fa soffrire questi Diciamo semi umani semi zombie quindi un po' pazzi ecco già, diciamo semi pazzi, semi persone e quindi bisogna vedere cosa facerà Murkos questa sarebbe appunto l'impresa l'azienda dove stavano questi maniaci e a quanto pare questa storia sta andando in in modo diversa ecco, per quanto per quanto mi riguarda allora andiamo qua ottimo ottimo, ottimo del cazzo si va qua e sono un padre e signori io credo che basta fin qui perché adesso ovviamente adesso inizierà il bello adesso ci si divertisce quindi signori io direi che basta per oggi questo Outlast veramente lasciate ovviamente il mi piace per questa serie che appunto la porto ancora dopo l'introduzione un anno fa iscrivetevi buona giornata buona serata bene bene grazie a tutti